Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Il Grande Fratello ha scatenato polemiche tra i telespettatori a causa di una frase pronunciata da Alfonso Signorini durante la diretta. Il conduttore ha rilasciato un commento che ha suscitato indignazione sui social network, generando critiche anche se si discuteva di qualcosa di positivo su Fiordaliso. Mentre i concorrenti e Cesara Buonamici hanno scelto di non commentare la dichiarazione del conduttore, questa ha comunque sollevato l'indignazione dei telespettatori. Fiordaliso è stata chiamata nella casa del Grande Fratello, dove ha ricevuto una sorpresa emozionante, l'incontro con suo figlio Paolo, che vive all'estero. La dichiarazione incriminata di Signorini è stata incentrata sulla nazione in cui Paolo si è trasferito, generando una serie di critiche da parte degli utenti. Dopo aver manifestato la sua gioia e l'orgoglio per il figlio, Fiordaliso ha rivelato che Paolo si trova in Thailandia, a Bangkok, per motivi di lavoro. La domanda successiva di Signorini, accompagnata da una risposta ironica, ha provocato l'indignazione degli spettatori. Il conduttore ha chiesto perché suo figlio è a Bangkok, a parte le massaggiatrici thailandesi. Questa battuta è stata fortemente criticata dagli utenti, alcuni dei quali hanno sottolineato la gravità del commento riguardo alle massaggiatrici thailandesi, definendolo insensibile alle difficoltà che molte di loro affrontano. E voi, cosa ne pensate delle parole di Signorini? Fatecelo sapere nei commenti.